Per me l'esperienza di Special Olympics, per me è la prima volta che vengo. La vittoria più grande è proprio venire qua. Ed è come una... la coppa io ce l'ho già in mano, che è quella dell'amicizia, di conoscere nuove persone. Ed è una coppa che non è come quelle che la metti sulla meisola e fa la polvere. Questa qua invece è bella, è come un fiore che cresce sempre di più e non appassisce. La bellezza di Special Olympics è accogliere la diversità. Ed è un utopio di vita, secondo me.